E' l'inora, aspirante cantante di Amici 18, ha raccontato una parte molto delicata della sua vita privata Amici 18, è l'inora in difficoltà per il banco.Nella sala relax della scuola di, Amici 18, spesso i ragazzi si confidano sulla propria vita e sul proprio percorso di canto o di ballo L'ultima ad essersi confidata con i compagni d'avventura è stata il l'inora. La ragazza ha confessato di essere molto preoccupata di non poter riuscire a prendersi il banco che tanto desidera Ad innescare questo stato d'animo è stata una canzone di Lady Gaga e Bradley Cooper che l'inora non riesce a cantare senza piangere Amici 18, è l'inora confessa. Sono stata sposata ed è finita molto male.Parlando delle sue difficoltà, e dei motivi che la portano ad essere così emotiva, è l'inora ha confessato di avere alle spalle un matrimonio La ragazza si è sposata a 21 anni ma il tutto è naufragato molto presto per motivi delicati e seri Certe cose andavano dette subito. Se qualcuno mi avesse messa in guardia, mi avesse parlato di certe cose, l'avrei ascoltata e non avrei subito E l'inora ha spiegato di essersi sentita molto male per questo, e di usare la musica anche per dare il suo messaggio, cioè quello di avvertire le altre persone di non fare il suo stesso errore Amici 18, chi riuscirà a prendersi il banco.Di domanda.Quest'anno i banchi da assegnare sono solamente 12 Di questi, tre sono stati assegnati nella prima puntata e sono quelli del ballerino Miguel, e delle due cantanti donne Giordana e Tish Sono rimasti 9 posti e i candidati sono ancora 16.Tra questi ci sono gli aspiranti cantanti. Giacomo e Eva, Daniel Piccirillo, Alessandro Casillo Kevin Paine, Noemi Cainero, Elinora, Yamat, Jeteo, Mameli e Sofia I ballerini candidati al banco, invece, sono Marco, Giusi, Daniele, Arianna, Mattia e Mogli